Ho visto segnare l'altro giorno in un altro senso, diciamo che sto invertendo. Buonasera, dottoressa Chiabotto, come va? Sempre della Juve? Sempre della Juve, non abbiamo di questi problemi, no. Carpa felicista un po'. Ma smettila. Volevo precisare che quando giochi non ti sta... Vabbè, ma non sei simpatica. Sono molto carina. Carlo Bucci Rosso. Finalmente qua. Un po' tifosi, ma strano in queste ore, no. Ma sono stati unifacili, anche perché poi sono stati una settimana in ritiro e questo comunque è un sintomo di malessere, tra virgolette, però, insomma, lui fa il suo lavoro come tutti gli altri della squadra. Le scelte del presidente poi sono una cosa a parte. Scusami. Mina Juve, Mina Juve, la signorina Chiabotto. Appunto, molto felice. Tra l'altro con i colori... Sempre fedele. Di che contrada? Ma quale contrada? C'è il bianco e nero, black e white. No, molto bello, veramente un bel capo, un bel capo... Prima di niente sono il loro beige marronato e il nero. Ecco lì, la città. Il messaggio e poi penso a tutte le parole dette. Piuttosto che litigare, magari ha stretto la mano a mia, invece gli ha detto rimaniamo amici. Ci può essere un po' un effetto stra... Sì, e non c'è paragone, perché se hai visto tutte cose, sono affiancati a botta, affiancati a salto. Va bene, è bravo. Le emozioni non hanno note, insomma. Le emozioni non hanno note. LN. La decisione è che noi probabilmente non abbiamo i modi per trovare una soluzione, perché a mio avviso... Il servizio. Graziano! Graziano! Il par... Che avrebbe fatto di no fin... Se esse per scambiarsi dei... Non è stato... Non è stato... Anche una volta, amico. Non fate del male, un momento. Non è un momento. La storia di calcio... Offerto, a un posto offerto. Per colpa dei... Aspetta. Giovanni. Come mi vedi? Tutta gamba, posso sedermi? Ok, mi siedo, anche perché ho appena scritto un libro, non è il caso. Come hai di piedi... 42. 42. Vuoi un'alluce? No. Quella è un'altra cosa, pardon. Come è un'altra cosa? Abbastanza, eh? Stiamo raggiungendo il traguardo del disco d'oro, quindi, insomma... Quanto è il disco d'oro? Vabbè, sarà 25... Tempo è comunque... Non è solo emergere, ma restare... Restare a quei livelli. Ma questa... Questa parola è la partita. Finito? A più sei? Io gli... La chi ha botto, fa le corna, Mughini, fa le corna. Ormai è un programma... Sono unica. Io penso che non sarebbe andata male. Dopo qualche anno. Hai visto? Hai visto? 5 e... Le cose dovrebbero essere fatte. Vieni. 3 parole. 3 parole. È troppo facile come abitare una partita di pulcini. Ricordiamogli appunto... Non sono neanche i cani, ma è Alessio Bernabèi... Il servizio. Ecco. Ecco, Mare Campsic. Mi è sembrato che... Recuperare poi... Vi faccio vedere la faccetta. Perché sei lavorato... Di una doccia auspicata. Vuol dire che comunque... Vacanza quella settimana. Chi lo sa? Che della comunicazione. Che amico e scanzi. Ma le sono i bravi, non le sono i più grandi. Ho già detto la puntata scorsa, però avevo due... Bambino, insomma... E purtroppo ormai sono già impegnata, quindi... No, questa è la mia gavetta in serie C con le donne. Perché mi hanno andato a queste... Non so... Allo stadio passando da... Perché non c'era in quel... Non lo era neppure l'altra sera. Adesso possiamo fusticarci noi, i russi, questa cosa non la vedono perché viene sulle televisioni.